Splendidi fiori d'arancio per Ariana Grande. La bellissima ventisettenne pop star ha celebrato le nozze con l'agente immobiliare di lusso Dalton Gomez. Di lui sappiamo ben poco, a parte il fatto che è nato e cresciuto in California del Sud. Si occupa quindi di vendita di case e sembra sia stato proprio lui a vendere la casa ad Ariana. I due hanno pronunciato il loro lo voglio durante una piccola cerimonia in California davanti a pochissime persone, circa una ventina di invitati. Questo forse perché sia lui che lei non avevano voglia di essere sotto i riflettori. Lui viene descritto come un tipo molto tranquillo e riservato e Ariana probabilmente si è innamorata di lui anche per questo. Non ci sono notizie riguardo al loro matrimonio, diciamo non ci sono né foto né dettagli in quanto entrambi non hanno pubblicato nessuna foto sui social. È stato comunque per quello che abbiamo capito un matrimonio d'amore, una giornata felice e sia la coppia che le famiglie siano stati molto soddisfatti. La proposta di matrimonio sembra che sia arrivata alla fine di dicembre e quando la coppia si è fidanzata e Ariana ha mostrato al diso un anello di diamanti e perle con la didascalia per sempre e poi ancora. Per questo noi auguriamo a questa nuova coppia una vita per sempre e poi ancora. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime news.